Ieri ha conosciuto il nome della sua avversaria per le prossime elezioni. Il PD è tutto soddisfatto dall'affluenza numerosa. Lei come commenta le primarie? No, non aspetta a me commentare più di tanto. Abbiamo, come diceva lei, l'avversario del Partito Democratico, dal quale ci separa una differenza politica molto netta. Non consideriamo la valente espressione di una novità politica. Nasce e si consolida con Bassolino, quindi di quella stagione politica che ancora paghiamo sulla pelle nostra, dal disastro dei rifiuti al commissariamento della sanità e dei trasporti. Poi si consolida e si afferma come assessore della giunta a Iervolino che è quel, ahimè, che ci ha consegnato il disastro più grande con cui abbiamo dovuto fare i conti nel vero senso del termine. Un miliardo e mezzo di debiti, 850 milioni di disavanzo. Tra l'altro assessore al turismo nell'epoca in cui si contavano in città i sacchetti della spazzatura ma non i turisti. Quindi sarà per noi una bella campagna elettorale. Riteniamo che ogni avversario merita rispetto. Noi rispettiamo tanto Gianni Lettiri quanto la Valente quanto gli altri candidati, ma andiamo avanti per la nostra strada perché siamo convinti che bisogna parlare ai bisogni della gente. In questo caso l'esperienza napoletana è un'esperienza completamente anomale, autonoma rispetto al sistema tradizionale. Ecco, Valente e Lettiri rappresentano il tipico schema della politica che noi abbiamo contrastato con i fatti in questi anni. Io quando ho parlato del rispetto degli avversari, in particolare, se consentite, mi riferivo molto a loro, di cui ho un grande rispetto. La mia campagna elettorale si è confermato che si vota giugno inizia il 2 maggio. Per me fino al 2 maggio non cambia assolutamente niente, salvo rispondere alle giuste domande, chiaramente che ci stanno e ci mancherebbe altro. Ma il mio programma, se lo vogliamo chiamare come agenda di lavoro, fino al 30 aprile non cambia assolutamente nulla se è confermato che si vota a giugno. Quindi aspettiamo anche la rosa completa dei candidati per poter fare una valutazione complessiva. Per ora io sono molto soddisfatto, molto soddisfatto delle persone che si candideranno con noi, delle liste che stiamo costruendo. C'è un grande entusiasmo, per certi aspetti anche maggiore rispetto a cinque anni fa, perché è un entusiasmo fondato sul governo della città che c'è stata in questi cinque anni, quindi non sulla speranza del cambiamento. Quindi siamo molto motivati e devo dire la verità che il risultato di ieri delle primarie che noi rispettiamo ci stimola ancora di più ad andare avanti e non ci mette nessun tipo di preoccupazione politica da questo punto di vista. Sì, le primarie hanno anche forse definito l'addio di Bastolino alla politica. Una battuta su un sindaco che è stato comunque importante. Una valutazione la voglio fare sui numeri. Oggi io sentivo, visto velocemente un po' le letture sui social, sui giornali, è andata a votare gente che è ovviamente importante della nostra città, però non è che ci siamo trovati di fronte a un'ondata popolare enorme, anche perché il Partito Democratico sta in campagna elettorale per queste primarie da due anni. Io ricordo che Bastolino ha cominciato a parlare nell'estate del 2014. Per la Valente è sceso in campo il Partito, nella sua integralità. E quindi se guardiamo perché sono state primarie soprattutto di partito, ecco, questo voglio dire, non c'è stata una massa di popolo estraneo al Partito Democratico che è andata a votare, almeno questa è l'impressione che si ha atteso ai numeri, e quindi diciamo si poteva pensare sulla carta in astratto un 70-80% della Valente. Quindi mi sembra che Bastolino abbia avuto un risultato importante, perché poi alla fine ha perso per poche centinaia di voti, insomma mi pare di capire, 4,50, leggevo. Quindi insomma, certo lui è partito molto prima, quindi insomma noi abbiamo il candidato del partito, quindi appoggiata da tutto il partito, tutto o quasi tutto, che diventa avversario del sindaco di Napoli con 12 mila voti, quindi che è una cosa importante, ma noi puntiamo, rispettando questi numeri, noi puntiamo di raggiungere l'obiettivo della vittoria al primo turno, chiaramente, che sono ben altri numeri sui quali dobbiamo conquistare la città, con la serietà, la passione, il coraggio, l'onestà e l'autonomia. Quindi da questo punto di vista io penso che Bastolino non esce sconfitto da queste primarie, perché per la forza in campo che era stata messa e per come si sono messe le cose è stato un testa a testa con la vittoria alla fine da chi è stata portata da Renzi a scendere tutto il partito, compreso Napoletano. Quindi questi sono andati al photo finish sostanzialmente. Si può fare uno schema, tu sarai il candidato dei movimenti, dei comitati, mentre la Valente sarà il candidato dei partiti, penso a Td, a Italia dei Valori, che ti ha lasciato per passare con loro. Ma io mi sento... Il caniato della città, che preferisci? No, ma questo può sembrare... Io parlo, l'ho detto più volte, è una scelta politica questa che abbiamo fatto, di parlare alla città. Io non mi sento in un recinto di centrosinistra, in schemi precostituiti. Napoli è veramente un laboratorio. Noi crediamo veramente nel movimento popolare, quindi ampio, plurale, dove dentro ci stanno esperienze diverse. Ci stanno esperienze radicali, esperienze popolari, anche anagraficamente molto diverse. Le liste civiche, quando poi le pubblicizzeremo, ve ne renderete conto di come viene rappresentata la città in tutte le sue articolazioni. Poi magari ci sarà anche qualche partito che ci appoggi. Abbiamo la sinistra, in qualche modo, unita e innovata. Mi auguro soprattutto un'innovata che ci sostenga. Ci sono i movimenti di autonomia che abbiamo visto in questo periodo. Insomma, io sono molto soddisfatto. Più di cinque anni fa. Perché cinque anni fa, comunque indipendente, autonome c'è, però vi ricorderete, almeno chi c'era tra di voi, che io la presentazione della candidatura la fece all'inizio con Antonio Di Pietro, Unità dei Valori. Chiaramente è un'esperienza che non rinnego per nulla. Ma che comunque un uomo come me, un'esperienza come la nostra, che si è contraddistinta mantenendo l'autonomia e lottando e lavorando sull'autonomia e sull'unione delle autonomie diverse all'interno della città, oggi noi ci presentiamo così. Sicuramente la valente, mi pare evidente, che è espressione proprio del PD. Quindi il PD che è da livello nazionale a quello locale, quindi la valente non potrà essere né una candidatura civica, né una candidatura nuova, né una candidatura di movimenti, è una candidatura che noi rispettiamo, che è del partito, che è sceso in campo. Così come Lettieri, si vuol far vedere che si presenta come qualcosa di nuovo, ma in realtà è sempre quello che ha l'endorsement di Berlusconi. Anzi, adesso, oltre a quella di Desiano, si è aggiunto anche Bertolaso, il numero tre, insomma, in questo caso ci sta bene. Bertolaso? Sì, però volevo farle invece un'altra domanda. Allora, noi sappiamo che tre, cinque anni fa... Poi volevo dire una cosa pure io dopo, su un'altra cosa. Ok. Alle primari cinque anni fa il PD ha avuto 45.000 votanti, no? Quindi ha perso di 15.000, tra l'altro questo partito si è spaccato, due, sostanzialmente a Napoli. I Cinque Stelle erano anche un candidato, Lettieri legge la partito alle forze elezioni. Si sente, come qualcuno oggi dice, si trova, il vincitore di questa elezione o no? Assolutamente no. Non dimentichiamo anche, mi pare, il circa 10% che ha preso anche il candidato Sarracino, perché comunque, insomma, ecco, ripeto, non mi pare una vittoria schiacciante, sicuramente quella della Valente. Ha fatto bene lei a ricordare, perché io leggevo appunto come un successo di popolo le primarie del Partito Democratico. Ripeto, grande rispetto, perché ogni elettore deve avere un grandissimo rispetto e io anzi punto a conquistare nei voti anche una parte dell'elettorato che è andata alle primarie del PD, si è ben chiaro, a cui io guardo con tantissimo rispetto, ma rispetto a quei 45.000 il 2011 e consideriamo che da due anni almeno si sta preparando la campagna elettorale contro l'amministrazione dei magistri, se no, lo dicono anche nelle prime dichiarazioni, e insomma, tutto sommato, questo è il dato. Non mi sento assolutamente favorito, non mi sento favorito perché so quello che metteranno in campo. Sulla Valente scenderà ovviamente il Presidente del Consiglio in tutta la sua forza, il Partito Democratico Nazionale, le risorse economiche, gli apparati, gli interessi, i sostegni che hanno. Lo stesso Lettieri ha già dimostrato nelle prime ore, circondando la città, insomma, di manifesti, di che tipo di potenza economica che metterà in campo. Quindi io non mi sento assolutamente favorito. Io mi sento molto motivato, e noi ci sentiamo, come dicevo prima, molto motivati perché siamo convinti di vincere, nel senso che abbiamo la forza di chi crede che si può raggiungere un obiettivo di vittoria, e quindi faremo questa lotta fino in fondo. Ma non ci sentiamo, lo dico con sincerità, assolutamente favoriti in questo cammino. Grazie. 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 Grazie.